nell'olimpo dei migliori diffusori al mondo stanno queste rockport avior dei diffusori che hanno tutte le carte in regola per posizionarsi come riferimento nella loro elevata fascia di prezzo caratterizzati da un suono estremamente musicale particolarizzato in grado di ricreare in fronte sonoro dalla grana iperfine in cui gli strumenti godono di ampio respiro posizionati con precisione al micro dettaglio estendendosi con velocità e autorevolezza in tutta la gamma audio grazie all'eccellente progettazione alla costruzione maniacale alla componentistica di prima scelta gli avior sono in grado di suonare qualsiasi tipo di informazione musicale proveniente dalle elettroniche con una naturalezza e una disinvoltura da prima classe qualità che contraddistinguono l'intera produzione rockport technologies le avior combinano sapientemente e piacevolmente l'equilibrio tonale hanno la capacità di risolvere i più fini dettagli presenti nelle registrazioni in qualsiasi frequenza dell'intera gamma audio armonizzano prestazioni ed eleganza con dimensioni moderate e offrono un suono reale e completo sia i driver dei bassi che i driver mid range utilizzano un nuovo rivoluzionario tessuto in fibra di carbonio che aumenta ulteriormente il rapporto rigidità peso dei coni per un perfetto comportamento pistonico nell'intera gamma operativa entrambi i driver presentano anche profili conici di nuova concezione e sistemi motore all'avanguardia ultralineari ed ad alta potenza il risultato è una distorsione incredibilmente bassa e un enorme gamma dinamica il prezzo di listino è di 45 mila euro sono usate ma praticamente come nuove